Gestire un ristorante di successo è un duro lavoro e avere più sistemi che non si integrano tra loro lo rende ancora più difficile. E se ti dicessi che esiste una piattaforma che ti consente di gestire il tuo ristorante in modo più intelligente e ti aiuta a far vivere a ogni ospite un'esperienza personalizzata, facendogli così venire voglia di tornare? Pensaci, sai quanti dei tuoi ospiti diventano clienti abituali? Quanto spendono in media il loro piatto preferito? O quante entrate stai potenzialmente lasciando sul tavolo senza rendertene conto? Ti presentiamo la piattaforma All-in-One di Superb, un modo nuovo e più smart per gestire il tuo ristorante. Il gestionale centralizzato All-in-One di Superb ti aiuta a risparmiare tempo raccogliendo tutto ciò di cui hai bisogno per gestire il tuo ristorante in un unico strumento. Il nostro gestionale centralizzato All-in-One è disegnato per fornire al tuo team un flusso di lavoro rapido dalla presa degli ordini ai pagamenti fino alla panoramica dettagliata delle vendite. Con Superb puoi creare i profili di tuoi ospiti raccogliendo i dati in un'unica piattaforma. Vieni a conoscenza di preferenze alimentari, visite, storico dei consumi, spesa media e molto altro. Tutto ciò che ti serve per fidelizzarli. Puoi ricevere i pagamenti online o al lavoro. In ogni caso puoi personalizzare l'esperienza in modo che rispecchi il tuo brand e incassare i ricavi il giorno successivo. Accogli i tuoi ospiti come non hai mai fatto prima, con un'esperienza di prenotazione che riflette il tuo ristorante da tutti i dispositivi. facendoti distinguere dalla massa. La piattaforma All-in-One di Superb semplifica il lavoro del tuo team, permette di lavorare al meglio con tutti gli strumenti necessari per la gestione del ristorante, ti consente di offrire un'esperienza personalizzata ai tuoi ospiti, dandoti la possibilità di costruirci relazioni e aiutandoti a massimizzare i profitti. La nuova generazione di ristoranti scegli Superb perché insieme crediamo nell'importanza dell'esperienza. Grazie. 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 Grazie.